Ciao, sono Giacomo del negozio OBI di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze. Oggi ti presento questo terriccio universale biologico, perfetto per realizzare orti e la coltivazione di ortaggi, frutta e piante aromatiche o ornamentali. Garantisce il miglior supporto di crescita sia per la semina che per il trapianto o rinvaso di piantine da vivaio. Il terriccio universale biologico sarà in offerta a 7,95 euro fino al 21 marzo in tutti i nostri negozi. Eccolo qui. Questo tipo di terriccio si può usare sia in vaso che in piena terra. È indicato per l'agricoltura biologica perché è 100% origine naturale. Le sue materie prima, infatti, sono sicure e controllate per tutta la catena di produzione. Torba pregiata del nord Europa per fornire le radici supporto, ritenzione idrica e areazione. Ammondante compostato verde per donare nutrimenti alle piante. Sabbia di fiume per facilitare l'areazione, il drenaggio e la creazione di un ambiente ottimale per le sementi. Con questo terriccio avremo sempre una crescita sana e raccolti abbondanti. E ora qualche consiglio per l'impiego. Innanzitutto occorre sempre preparare il terreno movimentando la terra fino a una profondità di 10-15 cm. Di seguito mescolare un sacco di compo bio terriccio per orte semina da 50 litri. Ogni sacco basta per 2 m². Infine, è sufficiente distribuire in fila i semi, in caso di semina, o le piantine, in caso di trapianto. Ricorda però di tenere sempre tra loro la distanza ottimale, specifica per ogni varietà coltivata. Infine, ricopri con un leggero strato di terriccio, compatta e procedi con le innaffiature. E questo è tutto per il terriccio universale biologico. Spero che questa presentazione ti sia stata utile. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o per acquistarlo puoi venire a trovarci in negozio o consultare il sito hobby-italia.it. E adesso è ora di pollice verde!